Ciao ragazzi se vedete questa schermata è perché voglio farvi notare quanti non sono iscritti al mio canale quante persone non sono iscritte al mio canale e guardano lo stesso video quindi vi dico già chi non è iscritto va di subito ad iscriversi al canale attivate la campanellina condividete il video e lasciate un bel like per supportarmi poi dopo naturalmente nel prossimo video se indovinerete la canzone che ho fatto oggi io vi saluterò e niente detto questo buona visione a tutti ciao ciao a tutti ragazzi sono freddy oggi siamo in una nuova drunk over e questa drunk over sarà su una canzone che dovrete indovinare qua sotto nei commenti e se l'ho indovinata vi saluto nel prossimo video poi invece oggi saluto Samuele Pira, Marco Corradini, Niccolò Bigi, Fabio Torricelli, Niccolò Cattini, Samuele Salsi, Giuseppe Perdente, Edoardo Cicalini, Federico Gradelini e Gianmarco Rusbagiari grazie per esservi iscritti ragazzi poi dopo trovate il link dell'account di Instagram di un mio amico qua sotto nella descrizione che vi lascio e niente io spero che il video vi piaccia buona visione e prima che inizi il video ci sarà anche un avviso per coloro che non sono iscritti ok? io direi che qua ho finito momentaneamente e niente ci vediamo tra poco ciao 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 se il video vi è piaciuto mi raccomando spolliciate come posso chi non è iscritto vado a iscriversi perché so già le condizioni che possono accadere se non si va ad iscrivere poi naturalmente condividete il video attivate la campanella per le notifiche se no dopo vi perdete i miei video che questa cosa non è buona e niente io vi auguro una buona settimana un buon rientro anche a scuola e spero che iniziate bene la scuola è anche il periodo di ritrovamento e anche di conoscenza per chi è nuovo o deve andare a fare una nuova scuola invece per chi deve tornare a fare come ne so tipo la seconda, terza, media lì buona fortuna con i compagni beh io vi saluto ragazzi ci vediamo alla prossima ciao